E torniamo in studio per parlare di un convegno a carattere storico che si è svolto ieri e oggi all'Università di Trento ai confini dell'Unità d'Italia, 150 anni di dibattito, un convegno le reazioni delle periferie degli Stati europei alla costruzione dello Stato italiano. Ne parliamo con il responsabile scientifico, il professor Luigi Blanco del Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale dell'Università di Trento. Buonasera professore. Perché avete sentito l'esigenza di organizzare questo convegno? Sì, grazie anzitutto per l'opportunità. Ci riflettevamo da tempo. Abbiamo inteso proporre una riflessione sul processo di unificazione nazionale poco consueta, cioè di guardare dai confini, come si suol dire, con tutte le implicazioni che ciò comporta o dalle periferie a questo processo. Quindi abbiamo inteso proporre una riflessione nuova sul processo di costruzione dello Stato, che è un processo complesso, perché si costruisce un nuovo Stato ma al contempo crollano sette antichi Stati italiani. Allora, cosa resta delle tradizioni amministrative di questi antichi Stati nel nuovo Stato italiano? La prima questione grossa è stata affrontata, e questa è stata affrontata soprattutto da storici delle istituzioni politiche, da storici dell'amministrazione. La seconda invece riflessione che abbiamo inteso proporre è guardare come il farsi della nazione italiana sia stato un processo molto pluralistico. Le tante patrie, le tante periferie, le nazioni prima della nazione italiana, in che modo hanno contribuito a questo processo di costruzione di un nuovo Stato nazionale? Credo che l'esito, il frutto più interessante del convegno sia stato quello di mettere in evidenza come questa diversità, questa varietà, che è la struttura, la membratura, come si diceva nell'Ottocento, della nazione italiana debba essere considerata una risorsa, piuttosto che non una debolezza identitaria. Il Trentino è una terra di confine? Certo, certo. Infatti un intervento è stato dedicato anche al Trentino, ovviamente, perché il Trentino partecipa di questa costruzione in modo suo, peculiare, non solo perché le cosiddette terre che andavano ridente in qualche modo hanno avuto una loro peculiarità. Il Trentino entra a far parte tardi, ovviamente, del Regno d'Italia, ma ci entra nello stesso modo in cui era entrato nel 66 il Veneto, nello stesso modo in cui nel 59 ci entra la Lombardia. Quindi attraverso processi che non tengono più conto alla fine delle specificità giuridiche, normative della terra che viene annessa o inglobata. Quindi da questo punto di vista è ancora più interessante riflettere su queste modalità di incorporamento, se così possiamo dire. Bene, grazie professore per questa sua testimonianza. L'appuntamento con Trentino Più è per domani. Alla stessa ora, arrivederci. Grazie. Alla stessa ora, arrivederci.